E come sei finito a Capena? A Capena sono finito perché io sono abituato a una città piccola e preferivo vivere un po' in margine dalla grande città caotica e ho trovato Capena come il mio ideale, insomma mi sono sposato con una romana e sono rimasto qui Mi ricordavo che tu correvi in macchina Più che altro preparavo macchine Preparava macchine, lui stava sotto le macchine Io stavo sotto, io riparavo sotto le macchine E quindi non è che faceva tanto L'importante è davvero una pagina troppo grande perché sennò smantella contro... Di solito erano tutti formati Non serviva andare sotto a terra che erano descoperte Ecco perché, vedi? Oh René, è troppo forte Senti! Ma allora